E' la storia di tutte le sere, quando l'altoparlante della radio ci avvia teneramente verso la conclusione della giornata. Negli auditori le orchestre staccano. Ore 24. Fra poco le antenne che hanno lanciato appelli di fraternità e di amore per coloro che sono stati colpiti dall'alluvione si spegneranno. Dalla terra affasciata di silenzio si leverà la preghiera. E tu, madre dolce, Maria, tu che spesso prendi il nome dell'acqua, simbolo della tua chiarità e purezza, tu che ami apparire accanto alle sorgenti, a te preghiamo, regina dolente. Stendi sulle acque il tuo manto di cielo e i fiumi e i torrenti torneranno nei loro letti. E i paesi, i villaggi e le città riprenderanno a vivere. Aiutaci, regina che vuoi ciò che tu vuoi. Signore e signori, buonanotte. Avete conosciuto personalmente la voce misteriosa e suasiva che vi dà la buonanotte. Primi a obbedirle questi operatori del Salone Pannelli. Poi anche a casa nostra si spengono le luci.